Terza giornata, face Champions League Super Cup, White Wolves contro SSC Avanas Gay. 3-0 per Avanas Gay, triplet di Sergio Carnevale. Grande Sergio Carnevale, nonostante quasi matematicamente abbia vinto il miglior marcatore, il marcatore continua a segnare. E' anche uno degli attaccanti più forti del torneo. Come la vede questa partita? E' stata una buona partita fino a questo punto, speriamo bene. Beh, c'è la sacca e quelli della casacca sono i miei malati a scherzo, eh? I White Wolves già sono qualificati in semifinale, sono arrivati i primi in classifica. Fallo, fallo, brutto fallo. Sono qua i concorrenti degli semifinalisti. Sì, ma non ci sono io, non c'è spizzo in conto. Ma infatti è tutta un'altra cosa, ma ieri prima mi hai dato una puttana notizia, mi hai spaccato il culo. No, ma adesso mi aggrego ai White Wolves. Non c'è più il calcio di calcio. Vuoi diciamo che no, io non partecipo più al posto del torneo. No, ma se devo fare io la squadra, mi scuccio. Però se invece... Grande parata! Andiamo un po' a non essere a trarre per... I Amazghe. Vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, come? Ti li c'ha di tallare! Sto facendo? La mano che si sta gelando. Cambia! Bella! Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Ottimo. Ma buono, non metti soltanto il tavolo, se non ti metti la vita. 3-0 per... Che ne pensi? Ce la fanno a passare. No, lo so. È dura. Ma con il dito è gelato. Infatti io... Che c'è? Sono stato contrario a metterla uno e due l'altro queste le partite. Le avevo mette in contemporanea. E' molto difficile da gestire questa partita. Fidiamo il collegamento. Ringraziamo tutti i ragazzi prima che si litigano. Un saluto a Max Amato e Aldo della Sampatoria. Ciao ragazzi.